Ciao a tutti! Sì, questo è il mio ormai tradizionale discorso di fine anno, ve lo aspettavate e io lo volevo fare. Quest'anno ho fatto una scelta, gli altri anni una volta in mutande, una volta in vestaglia, l'ho fatto ridere. Non lo so, quest'anno lo voglio fare serio, farò degli auguri seri. E ho scelto Vico, ormai tramite me la conoscete a memoria, ho scelto il mare, ho scelto la mia amica, la Lannella, che ormai conoscete tutti. E' stato un anno strano, un anno diviso e spaccato a metà. Da gennaio a giugno i soliti problemi, il lavoro, la crisi, eccetera, eccetera. Poi dal primo giugno è cambiata la vita, ho fatto questo passo importante e coraggioso, perché non tengo più dieci anni o vent'anni o trent'anni, diciamo che ho una certa età. E con coraggio mi sono buttato in questa avventura della media, ormai non voglio parlare di questo, perché non mi piace farmi pubblicità. Che vi devo dire? Una cosa che mi piace assai, assai, e sono questi termini che sono entrati un po' nell'immaginario collettivo. Assai, assai, è solo cose belle. Naturalmente la vita non è fatta di solo cose belle, è il trucco, la ricetta, è andare a cercare il bello anche dove non c'è. Io ho la fortuna, e tutti noi abbiamo la fortuna, secondo me, che se siamo predisposti, le cose belle, prima o poi accadono. Già questo dicembre estivo, caldo, luminoso, è di buon auspicio per l'anno prossimo. Che vi devo dire? Io continuerò a stare con la mia rannella, continuerò a mangiare, ma mangiare no, non mi abbuffa, perché guardate, io per quello che mangio dovrei essere obeso, ma io anche là il cibo sono le cose belle. Un'altra cosa bella sta accadendo di fronte a me, una famiglia che sta coccolando un bambino, vicino al mare ci sono i gabbiani, insomma, a me bastano queste cose qua. Basta che i ragazzi stiano bene, i ragazzi intendo tutti, non solo i miei figli. Io ho le mie radici qua, se capito, il mio agulio lo faccio soprattutto a loro. Io ho due figli di 20 anni e 15 anni, ma è come se fossi padre di tutti gli adolescenti di Vico. Lavoriamo per loro, ma non solo economicamente, diamo l'esempio, cerchiamo di stare vicino. Che vi devo dire? Vi sembreranno strani questi auguri seri seri, ma quest'anno bisognava, è sentivo di fare così. C'è il paesello alle spalle, stupendo come al solito. Credo che tutti vogliono bene la Vico e Quenza, fino a maggio qualcuno lo vorrà bene ancora di più, ma lasciamo stare dell'umidità come ricetta di nonno, ne parliamo dopo. Basta, ho nominato tutti. Non so se sto a fare la faccia seria, ma credo di sì, credo di sì. Tanti auguri assai, assai a tutti quanti, solo belle cose a tutti quanti. Guardi, ti dico i video che mi ho fatto, serio, perfetto, mi ho fatto proprio una cosa bella. Eh? Tutto i video. E ora i miei frutti dici, adesso è una cosa seria, mettere i video, ma non ne esiste proprio, ma non ne esiste proprio. Oh! E ora? E ci mangiamo solo la sacciccia, ma non ne esiste. Ti ha detto, e già, fai bravo, non potete venire in tuo video. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, poveri in Ucraina, in Assemblea, sono geloso là, no, lasciami stare, ti voglio bene. Amo tanto. Aspetta, ma che sia tu? In questo video, tanti auguri assai, assai anche dalla magia, finiti a Titina, Sicilia, Svetana, ma... Stanno i carri, eh, in video non sono truccato, non li posso mettere. Tanti auguri assai, assai. In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more I am going to make money to the world Anretched in the naked light I saw And there were, however, the light I saw And there were, however, the light I saw